Benvenuti al Studio The Mansion, che ringrazio per che ci sto ospitando. Questa è per noi e per tutti, e se mi aiutate con le mani è una raviata, anzi al bicchiere. Ma la notte c'è quel rumore, di gente che ride ed alza il bicchiere, sta forgiando quel che sarà, ci ha scommesso tutta la vita, senza dietro il sabato sera. Il suo suono è una pausa, di qualche ora, che si abbastanza tardi, ma se vuoi, c'è un altro giro per noi. Mi chiedatelo ancora il bicchiere, ancora una volta, nel mille avvenire, asciugherò i maledieri, di questo piccolo grande dolore. C'è bellezza in questa città, non puoi lasciare che ti consoli, ma nel gioco, lungo una vita, questa libertà, che ci rende soli. E se non domani non ci sarà, spero solo di poter dire, che comunque, il malattine, è pazza la pena poterci provare. Sì, si è affrontando, ma se vuoi, c'è un altro giro per noi, per noi. E danzerò ancora il bicchiere, ancora una volta, nel mille avvenire, asciugherò i maledieri, per ogni goccia di questo dolore. E danzerò ancora il bicchiere, ancora una volta, nel mille avvenire, asciugherò i maledieri, per ogni goccia di questo dolore. E danzerò ancora il bicchiere, ancora una volta, nel mille avvenire, asciugherò i maledieri, per ogni goccia di questo dolore. Grazie. Grazie.